No, che partita goduriosa, che partita di goduria, no, non sono abituato, non sono abituato, troppe emozioni, che partita spettacolare ragazzi, oggi ci sono almeno 6-7 migliori in campo, il primo è De Gea, cioè il primo è De Gea, mamma mia, lui e la moglie io li amo, li amo, li amo alla follia, porca miseria. Ragazzi che partita pazzesca, ma proprio bella, una partita mi sono divertito, ora al di là del fatto che se si ha vinto, no, però la partita era tanti mesi che io non mi divertivo così in una partita della Fiorentina, cioè dico seriamente, io non ti dico che se ci avessero pareggiato, se fosse perso mi sarei divertito uguale, ci mancherebbe, però oggi proprio esco contento, cioè alla fine per noi tifosi viola il calcio è semplice, Noi bisogna divertirsi, ok? Bisogna stare bene a vedere la Fiorentina, oggi siamo stati bene, al di là del risultato, al di là che si è vinto e si gode perché sta una partita pazzesca, piena di emozioni e poi contro una grande squadra, insomma, veramente potrebbe essere anche addirittura la partita della svolta, a un certo punto, ce lo auguriamo, Non vogliamo parlare troppo presto, ma ce lo auguriamo, anche perché si sono trovate due o tre pedine che diventano imprescindibili, perché ad lì sazzardi a non farlo più giocare, cioè scendo io un campo e lo chiappo per un orecchio, la stessa cosa la coppia Gudmundson-Kenn, veramente oggi ha fatto grandissimi dialoghi, col Pani si è visto già meglio, soprattutto nel primo tempo, nel secondo tempo magari si è spento un pochino, però molto bene, complessivamente rispetto ovviamente alle partite precedenti, Dodostra, Ripante, mi è piaciuto anche Gosens, mi è piaciuto Ranieri al di là della sbavatura e ti dico, ci sono giocatori anche come Bove, Richardson, che comunque hanno dato un loro contributo, seppur non abbiano ovviamente riempito l'occhio con una grandissima prestazione, però ragazzi, oggi si è fatto, siamo stati per me quasi perfetti in tantissimi reparti, C'è Ken, al di là del fatto che ha sbagliato il rigore, allora, lì, che non si venga adesso a fare come l'anno scorso, se la tira e se la sente, perché no, eh, cioè, ci deve essere la gerarchia, adesso è Gudmundson, punto, ok? Poi magari gli può aver concesso una volta di tirare, però al di là del fatto che l'ha sbagliato, cioè adesso è Gudmundson, basta, punto. E però, al di là del, come dicevo, dell'errore dal dischetto e del rigore causato, che lì per lì a me sembrava più un fallo a favore nostro che contro, cioè che un rigore, però un giocatore stranipante. Aveva, tra l'altro, a tu per tu con Magnan, aveva infilato subito il gol del 2-0, su un fuorigioco che c'era, però l'aveva una bella imbucata di, insomma, del giocatore, insomma, ex Paris Saint-Germain, con quell'altra squadra lì, insomma, e quant'altro, è francamente un grandissimo attaccante, cioè io veramente non gli davo una lira inizialmente, mi sono ricreduto perché è straripante, cioè è devastante. È un giocatore che sa far tutto, tecnicamente fortissimo, fisicamente devastante, chiappa la porta, ha un senso della porta invidiabile, e poi, cioè, ora, a un minuto dalla fine trova la forza per tirare una bordata, ha spaccato la porta. Mancava un centimetro, veramente bucava la rete alla Olli e Benji. Poi, in più, riesce a dialogare bene anche con il giocatore, per me, non ha brillato, però comunque ha fatto un gol devastante, come quello di Gudmundson, Godonson, Godonson. Veramente può venire fuori una squadra veramente divertente. Speriamo di aver trovato la quadra, perché le settimane passate sono state brutte e lunghe. Speriamo che questa veramente sia la giornata e la svolta. Io vado a letto felicissimo, veramente felicissimo, divertito, lo ripeto, divertito e felicissimo. Ci vediamo domani con le pagelle.